Ancora accertamenti sul viadotto Puleto lungo la E45. Il GIP del Tribunale di Arezzo, Pier Giorgio Ponticelli, ha infatti affidato un secondo incidente probatorio, o meglio un'integrazione al precedente, perché due quesiti posti dalla Procura non avrebbero avuto ancora risposta, in particolar modo quello sulla pericolosità o meno del viadotto prima del sequestro e quindi prima degli interventi effettuati da ANAS. Si dovrà poi far chiarezza anche sul ruolo dei cinque indagati, vagliando dunque situazione per situazione in base alle competenze. Nel registro degli indagati erano stati iscritti cinque tra dirigenti e funzionari ANAS. L'accusa per loro è quella di omessa manutenzione. Per il ponte i sigilli erano scattati un anno fa, il 16 gennaio 2019, dopo la valutazione degli ingegneri incaricati dalla Procura di Arezzo, per i quali c'era il rischio collasso del ponte. Il viadotto era stato poi dissequestrato il 2 ottobre alla luce della relazione del professor Claudio Modena, che escludeva rischi sulla stabilità della struttura. Adesso spetterà all'ingegnere Vincenzo Laudazzi, al quale è stato conferito l'incarico, far piena luce sulle condizioni del viadotto al momento del sequestro. L'esperto dovrà consegnare la sua relazione ad aprile.